Oggi a Misano Adriatico prove ufficiali per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio d'Italia. Tredicesima prova della MotoGP 2014. Nelle libere di ieri condizionate dalla pioggia, miglior tempo per Andrea Dovizioso. Morte le cadute a causa del terreno vincito ma senza conseguenze. Avvio della gara domani pomeriggio alle 14.